eccoci buongiorno buonasera siamo di nuovo qui con innovation per war room e ci occupiamo del settore verde per eccellenza innovativo per tradizione la rivoluzione neolitica è stata la più importante della storia stiamo parlando dell'agricoltura agricoltura che tutto il mondo è un luogo di sperimentazione di innovazione con forti introduzioni nuove tecnologie e che ha però un significato e un sistema tutto da comprendere nel suo insieme per farlo abbiamo oggi alex giordano che insegna alla federico secondo di napoli e che è uno dei grandi pionieri del digitale italiano ha fatto mille cose adesso si sta occupando proprio di sistema dell'agricoltura e della socialità e della tecnologia che ci sta intorno alex vuoi farci vedere con qualche esempio con qualche cosa che praticamente che cosa sta succedendo nel tuo mondo grazie mille per questo invito in questa war room quasi paura questo questo titolo in questi giorni ma in realtà è un po una cabina di regia anche una war room quella che abbiamo messo su con ruralac è un progetto quindi che sostanzialmente lavora per facilitare la trasformazione digitale nel mondo dell'agricoltura in realtà lo dicevi ben tu in apertura insomma l'agricoltura è un sistema innovativo per eccellenza cioè per storia quindi l'agricoltura contene a quello che si voglia far credere e innovazione tecnologica e scienza e tecnologia quindi noi veniamo da dieci mila anni di storia di prova e riprova quindi di 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 continuo laboratorio sul campo passatemi eh la parola e eh il problema che a un certo punto ma questo vale non solo per l'agricoltura insomma un po per tutto è come se si fosse rotta questa tradizione come sostanzialmente come se essenzialmente diciamo le le parole la il lessico la cultura della tecnologia eh avesse cominciato a piovere un po dall'alto come qualcosa di progettato e programmato molto lontano dei territori in realtà questo è quello che è capitato un po a tutti noi quindi non soltanto a chi lavora nitramente nella tecnologia è un certo nell'agricoltura a un certo punto della storia il paradosso ha visto che gli agricoltori sono stati trasformati da produttori in consumatori quindi consumatori di di pratiche eh di semi eh di di agrofarmaci e tutto questo sostanzialmente ha creato dei problemi no come li ha creati un po in tutto il resto del mondo dello scibile e quindi noi a un certo punto ma questo ormai più di dieci anni fa abbiamo pensato che era importante cominciare a a far parlare questi mondi e quindi abbiamo preso un po il nostro mondo che è il mondo della cultura hacker di quelli che si occupavano appunto di di tecnologia di eh proprio di di essere un po nelle cose eh dei transistor con gli antichi gli anziani agricoltori perché avevamo visto che gli anziani mantenevano ancora una cultura della complessità che era quella che paradossalmente meglio ti può far capire e conoscere quindi anche le tecnologie evolute come la robotica l'intelligenza artificiale e devo dire questo esperimento partito con Ruralab ha funzionato dato degli diciamo questo fu un progetto che finanziato nel dal MIS dal MIUR appunto 12 anni fa funzionò perché crea questo corto circuito dove la prima cosa che vedemmo era un'intuizione dove eravamo partiti in realtà era più quello che si imparava quello che si andava a insegnare cioè appunto ci incontravamo con questi anziani che più dei loro figli però attenzione avevano una cultura della complessità enorme quindi la capacità di essere inseriti all'interno del loro ecosistema e quindi avere a che fare con quello che avveniva ogni mattino sul terreno ma inserito sui cicli universali quindi questa attitudine alla complessità devo dire che ci ha messo poco ad insegnare tantissimo ai giovani che avevamo portato in queste aree rurali ma soprattutto ad apprendere il senso che potevano darsi eh poteva essere dato a queste tecnologie e quindi da lì andando un po' sul pratico come lo chiedevi tutta una serie di esperimenti eh molto banali vi parliamo appunto di più di dieci anni fa e quindi abbiamo cominciato a eh mostrare a coloro che mettevano il pomodoro del pieno sul Vesuvio che magari avevano un problema dell'acqua che con una piccola scheda Arduino e due sensori di umidità nel terreno loro potevano in qualche modo efficientare eh il modo di irrigare quindi con un risparmio concreto e e vi assicuro che questa cosa è stata appresa immediatamente utilizzata è una pratica che se andate oggi sul Vesuvio ci sono più centralineo e tiche in in posti insomma molto più ehm con agricoltura anche molto più intensiva abbiamo eh fatto dei lavori eh importanti eh sul sul tema dell'olivo per esempio quindi con una cooperativa eh bellissima una cooperativa di di San Mauro Cilento che si chiama appunto cooperativa Nuovo Cilento che è un caso un po' diciamo eh più l'unico che è raro al sud sono quattrocentoventidue associ microproduttori di eh di olivo eh e di olio che da quarantotto anni sono insieme e e vi dico che anche lì eh andare a lavorare eh su come utilizzare sensoristica di precisione per prevenire quindi per avere modelli predittivi rispetto alla moscole aria o altri eh patogeni ci abbiamo messo ben poco imparato tantissimo imparando che la vera grande innovazione che loro portavano avanti da quarantotto anni era quella di riuscire a stare insieme e che usare e quindi insomma questa è stata una grande lezione per eh per noi studenti studiosi hacker innovatori ma soprattutto per il territorio quindi capire che anche affrontare eh alcune tematiche lo fai meglio se stai insieme per tanti motivi per avere un'estensione quindi anche in territorio più bassa per poter condividere i dati per poter condividere gli investimenti quindi pensate questa è una cooperativa dove eh negli ultimi anni abbiamo fatto diciamo delle eh da un punto di vista proprio dell'innovazione tecnologica dei passi avanti pazzeschi per esempio c'è un problema banale che lì purtroppo essendo terreno collinare ogni anno ahimè moriva qualche persona sui trattori che si ribaltavano comunque sembra una cosa molto banale beh aver concepito un trattore radiocomandato come se fosse un giocattolo eh e ha risolto il problema questo sarà possibile perché essendo insieme mettendo una piccola quota ognuno sostanzialmente hanno voluto fare questo test provare quindi lavorare con le università e quindi sostanzialmente questo è quello che facciamo ci prendiamo cura un po' del nostro del nostro mondo insieme con chi lo fa meglio di noi cercando di di giocare insieme spassatemi la parola giocare insieme fare delle le sperimentazioni quindi magari andando ad aiutare eh quelle realtà che non possono permettersi un dipartimento ricerca e sviluppo come magari può fare una grande multinazionale e lo facciamo noi quindi all'interno delle università con i progetti che mettiamo insieme magari mh unendo i puntini con le camere di commercio che magari hanno delle misure a volte anche finanziarie l'università che è delle realtà di ricerche ho la fortuna col nostro laboratorio di essere nel polo tecnologico di san giovanni a teduccio dell'università di napoli e di di essere docente anche presso un'università telematica che è la giustino fortunato questo ci aiuta per esempio a mettere su eh dei corsi eh online quindi sostanzialmente l'un lavoro che facciamo è quello appunto di unire un po' i puntini e devo dire che insomma in questi anni i risultati si sono visti eh perché al di là delle teorizzazioni quindi le speculazioni intellettuali che mi porto sempre dietro c'ho questa colpa che insomma che mi dovrò espiare prima o poi insomma un modello mediterraneo diciamo alternativo no di trasformazione digitale di un agritech eh oltre a teorizzarlo in realtà l'ho visto e lo vedo ogni giorni messo in pratica sul territorio che è il modo migliore per teorizzarlo alla fine e se non capisco male c'è una grande come dire eh scenario di fondo con tecnologie che vengono da altrove diciamo no sia nelle sementi sia nel digitale eccetera e invece questa impostazione non solo si occupa della tecnologia servizio dell'agricoltura ma è una tecnologia aperta locale che le persone capiscono e possono in qualche modo maneggiare o comunque con l'aiuto di persone che se ne localmente se ne occupano la possono in qualche modo trattare fare proprio anche dal punto di vista eh tecnico è proprio questo il rischio è proprio quello il rischio che noi abbiamo in generale è proprio quello di eh utilizzare eh sempre solo da utenti l'innovazione tecnologica allora questo è uno dei credo dei grandi problemi del presente che va affrontato urgentemente perché eh nella nell'ottica input output no della black box dove noi all'interno non sappiamo quello che succede mai si corre il rischio di perdere dei saperi che sono importantissimi per poter governare anche il cambiamento allora io avevo studiato questo perché io ricordo che i miei diciamo riferimenti che erano questi contadini anziani ho avuto la fortuna di avere un papà che mi aveva molto rispetto dei suoi amici contadini quindi mi portava da loro da da bambino eccetera quindi anche io maturavo questo rispetto e osservavo queste persone e per me eh si peppo era una persona importante perché era contadino era eh boscaiolo però era quello che se si rompeva il trattore lo sapeva anche aggiustare cioè era uno che era dentro tutte le cose di cui si occupava e quindi adesso non si tratta di essere diventare programmatori perché questo non serve però capire come funzionano quindi i sensori intelligenza artificiale eccetera può aiutare anche a dirigere il senso e a capire quello che è più utile per le nostre comunità vi assicuro e lo faccio da anni che eh senza nessuna mistificazione si può spiegare anche in dialetto napoletano come funzionano dei sensori e e quello che avviene all'interno di un algoritmo e di solito viene recepito oltre che c'è un livello di scolarizzazione molto alta data diciamo da da tanti giovani che hanno deciso insomma di tornare all'agricoltura e che quindi eh cercano non facilmente con tante difficoltà devo dire a riabitare anche queste aree rurali eh e che noi insomma cerchiamo di star vicino a queste persone che sono anche per loro la natura dei change makers e quindi possono essere dei mediatori simbolici sui territori che noi cerchiamo di sostenere con formazione pratiche strumenti eh e tutto quello che può essere rosa magnifico d'altra parte eh giusto per dare una sottolineatura qui stiamo hai hai citato anche l'intelligenza artificiale che è la cosa che di cui tutti parlano eh anche in questo caso c'è una interpretazione dell'intelligenza artificiale così solidale aperta locale basata sulle conoscenze del territorio? Allora guarda noi in realtà c'è da dirlo perché eh è giusto farlo. Una cosa importante in Campania che noi abbiamo fatto in questi anni eh e sarà fatta col nuovo PSR. Il PSR sono i piani di sviluppo rurale eh che è l'emanazione sui territori della PAC. Noi abbiamo avuto questo assessore che si chiama Nicola Caputo in Campania che io ho conosciuto per motivi non politici per averlo sul sul territorio che eh mi ha coinvolto quindi mettendomi come a capo del tavolo tecnico sulle misure legate all'innovazione e si è coinvolto quindi a metter su ad inserire quindi nel nel nuovo piano il concetto di data commons che non è banale cioè praticamente eh tutte le misure oggi finanziano tecnologie 4.0 l'utilizzo di intelligenza artificiale di big data a patto che i dati sono condivisi con la comunità e questo mi sembra una cosa politicamente forte importante quindi una cosa che eh sta cambiando faccia al territorio nel senso che sta imponendo quindi delle dinamiche di condivisione dei dati che stanno eh imponendo che cosa anche tutta la nascita di una serie di realtà che poi si a partire dalla regione stessa che si perdono cura di creare questo bene comune di dati e quindi devo dire che ehm questo da un punto di vista proprio istituzionale strutturale credo che sia stata la cosa più potente oltre dal fatto che appunto eh essendo tra virgolette pioneristica ma oggi non più come attività insomma per forza di cose ha visto una serie di persone che avevano già dentro di loro un'istanza di mutualismo di cooperazione e il fatto appunto di essere ancora sulla frontiera ti apre a quei processi detti cosiddetti di open innovation no che a volte sono formalizzate da un certo mondo finanziario ma in realtà lo sono per forza di cose cioè tutti i progetti di cui vi ho parlato prevedono all'interno poi dei ricercatori che noi abbiamo messo in queste aziende o la cooperazione con quella start up che magari eh si occupa di 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 sensori e quant'altro quindi sostanzialmente c'è una per chi lavora in maniera non egemonica o verticale insomma eh su su questo tema delle tecnologie per ho riscontrato che c'è comunque un un mutualismo quindi un qualcosa che va oltre insomma la la cooperativa in senso eh formalmente eh definito e questo insomma credo che sia il senso di una vera innovazione quindi di di essere un po' sulla frontiera bisogna essere bravi però a far sì che questo ha istinto che è quello che maggiormente garantisce diciamo delle dinamiche evolutive rispetto all'innovazione non si perda e su questo dobbiamo essere un po' tutti sentinelle perché essendo uno diciamo di quei parametri non ascrivibili nessuna voce del business plan si corre il rischio che poi nessuno eh ci pensa più e e questo viene diciamo di di sciolto mi piace pensare che un po' il ruolo anche delle dell'università dovrebbe essere questo farsi di essere sempre attenti e che il sapere è un bene comune mi sembra un'ottima impostazione tra l'altro è anche corrispondente al tuo approccio teorico eh il tuo libro food system 5.0 eh che è uscito l'anno scorso ma che sintetizza una lunga storia come quella che ci hai raccontato tra l'altro scritto in italiano non in napoletano dovrebbe servire un po' anche a essere a stimolare esperienze come questa in altri posti eh che cosa che cos'è un food system? Allora food system appunto parla del sistema cibo e del sistema cibo appunto è anche e soprattutto l'agricoltura ma non solo tutto quello che viene dal campo ma anche prima dal campo cioè dalle scelte di che farci di quel campo voglio dire tutte le attività diciamo di produzione in campo di trasformazione ma anche tutto quello che avviene finché il cibo non viene introdettato dentro di noi quindi è un sistema che ha a che fare pure con con le leggi quindi con la comunicazione con la pubblicità e con la dimensione anche culturale allora eh tutti mi scherzando mi dicono sempre dice caspito manco il tempo di arrivare al 4.0 e e già siamo sul 5.0 in realtà quel 5.0 vuole indicare proprio questo cioè il fatto che forse noi col 4.0 abbiamo perso una partita perché sostanzialmente se se pensi bene le tecnologie insomma del 4.0 sono quelle eh non nuove io ho studiato intelligenza artificiale nella prima parte degli anni novanta sostanzialmente ma sono delle intelligenze messe sotto una parola eh per ipotizzare una una quarta rivoluzione industriale però rispetto alle prime tre non c'è nulla di rivoluzionario cioè alla fine noi queste tecnologie le abbiamo utilizzate dentro gli stessi schemi estrattivi insomma diciamo della eh della del del mondo che ci ha portato anche ai problemi che oggi dobbiamo affrontare allora ci è sembrato forse un po' riduttivo forse anche pericoloso insomma ehm ipotizzare una rivoluzione non rivoluzione cioè che è fatta soltanto di sistemi tecnologici e non di eh cambiamenti dice paradigma sociale allora in questo 5.0 su ispirazione di quanto avevano già teorizzato in 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 Giappone con questo concetto di society in 5.0 abbiamo pensato che forse il tema della sostenibilità ambientale e sociale dovesse essere alla base diciamo di un cambiamento di paradigma quindi eh pensando un'economia non più estrattiva ma generativa e per far questo la comunità non può essere il terminale diciamo del di quello che avviene nel ripensare i processi ma deve essere parte quindi e lo sforzo di tutti è quello di di creare una comunità di apprendimento continuo che davvero in maniera cibernetica cioè eh eh vedendo quello che accade eh ripensandoci reiterando eh eccetera possa in qualche modo riprendere in mano le redini di quello che possa essere un futuro non soltanto quello più utile ma anche quello più desiderabile insomma la parte delle delle comunità e e questo è stato il senso di full system 5.0 che in realtà detto tra di noi a te lo posso dire che insomma si è stato tra il primissimo a leggere il manoscritto di questo libro e si cela forse anche una una metafora rispetto ai problemi del nostro tempo dove il cibo rappresenta il modo più concreto per parlare della complessità aumentata in cui siamo immersi quindi in questo è stato un mio contributo insomma alla complessità del nostro tempo sperando che parlando di carote insomma così come la copertina del libro mostra ma mettendoli insieme a un USB si possa pensare appunto a tenere insieme queste due dinamiche perché purtroppo e vado a chiudere insomma in viviamo in un tempo dove ogni discorso eh si apre immediatamente delle polarizzazioni quindi si parla di qualsiasi problema del nostro tempo e subito che arrivano gli ultrati una frazione di quella opposta che si combattono e questo tutto fa tranne che dare una mano evolutiva ai problemi stessi allora rispetto a un mondo che vorrebbe un diciamo una nostalgia del passato era meglio quando si stava peggio il pane si faceva meglio mille anni fa e quelli che pensano che la tecnologia basti a poter cambiare tutti a risolvere il problema noi abbiamo cercato di trovare una via alternativa che potesse mettere insieme queste due stanze e capire che è possibile addomesticare le tecnologie come è stato fatto col grano come è stato fatto con i bovini insomma e con il resto per per trovare una via simbiontica dove le tecnologie possono sostenere un progetto anche di sostenibilità e non necessariamente essere il vettore per inquinare o aumentare quello che sono i problemi che che oggi abbiamo e non sono tanti perché è bene dirselo che l'agricoltura ovvero quello che è stato trasformato all'agricoltura è comunque uno dei maggiori sistemi che impattano sull'ambiente sulla salute delle persone un certo tipo di agricoltura ce ne sono tante altre che quindi possono essere potenziate quindi godere anche diciamo del della di tutta la potenza di fuoco data da tecnologie e scienze per poter avere una sostenibilità economica e avere anche un supporto oggettivo su cui poter fare delle scelte soprattutto in un momento storico come questo di cambiamento climatico dove è importante cambiare tante cose della tradizione sì beh la tradizione non è fare come tu mi insegni fare le cose come si sono sempre fatte la tradizione è sapere come sono fatte le cose fatte bene insomma e questo non è del tutto ovvio e facile da comprendere ma a parte insomma quindi abbiamo ancora un minuto volevo chiederti visto che il nostro paese cioè l'europa prende un budget enorme per l'agricoltura e che si sta dando una nuova governance si sta preparando una nuova commissione eccetera tu come come valuti quello che ha fatto finora l'europa per l'agricoltura intesa nel senso che pensi tu questo è il momento in cui poi poi le relazioni si pentono di avermi invitato diciamo grazie per aver lasciato sul finale allora io penso questo penso che sta anche a noi insomma prendere gli strumenti che ci sono e di lottarli verso delle vie virtuose allora vuol dire che sicuramente eh quello che è stato fatto insomma era stato fatto con un una una visione insomma anche di sostenibilità faccio riferimento al green deal e anche a tutti le diciamo le proteste degli agricoltori che ci sono stati ehm però al di là della posizione io quello che mi mi sottolinea ehm che credo sia importante per me dire questo è che non può esistere una trasformazione senza conflitto nel senso che pensare di poter eh fare una una trasformazione una transizione ecologica eh a colpi di finanziamenti e norme dall'alto secondo me è stato forse l'errore principale da parte del della dell'Europa ehm tutto questo so che è difficile ma va accompagnato dal basso sui territori per evitare che poi non siano soltanto poi fondi norme o fondi perché poi i fondi diventano appannaggio di chi li sa gestire le norme eh appannaggio diciamo sempre dei più forti di solito che magari hanno potere anche rincitere sulle lobby da un ministero lobby eccetera il lavoro da farsi è un po' al contrario cioè quindi credo che sia un lavoro di individuare un metodo nuovo per poter realmente creare un'Europa dei come è stato detto diciamo dei popoli dei territori e che sostanzialmente abbia sul territorio un accompagnamento continuo rispetto a quelle che sono le transizioni. Questo cosa vuol dire praticamente? Vuol dire che ci sono diciamo anche nel libro Food System 5.0 ho preso degli esempi interessanti con cui ho avuto a che fare in questi anni quindi oltre quello della cooperativa come dicevo eh ci sono dei food hub quindi il lavoro magari di di poter dare un supporto di natura organizzativa e logistica a quelle produzioni maggiormente sostenibili che magari non hanno tutto questo oppure un'altra esperienza molto bella del Food Innovation Hub cioè che è quello che facciamo noi in piccolo ma che potrebbe essere strutturato cioè di dare dei repartimenti di ricerca e sviluppo che possono servire un territorio e e abbiamo già tutto abbiamo l'università abbiamo le camere di commercio ci si tratta di unire i puntini però ci vuole tanto lavoro in più sul territorio e questo forse è lo sforzo che io augurerei all'Europa è di riuscire a a pensare a mettere su delle palestre di innovazione quindi sui territori che in qualche modo possono accompagnare insomma eh l'attività delle 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 regioni che di fatto insomma eh rappresentano quindi i fondi diciamo a disposizione del della politica eh comunitaria sui territori ma soprattutto proprio di quelli che sono le persone che ci che operano giorno per giorno significa imprese università eh consulenti eh associazioni di categoria e capire come creare una concertazione virtuosa che non sia soltanto appunto l'amministrazione di di qualche eh fondo qualche budget che possa arrivare. Alex Giordano grazie a un hacker dell'agricoltura un professore alla Federico secondo un innovatore un organizzatore di tavoli collaborazioni solidarietà e soprattutto uno scopritore di storie affascinanti come quelle che ci ha raccontato oggi grazie ancora Alex Giordano. Grazie a voi.